Il Global Compact per l'emigrazione è una pagina storica. Io chiedo al Governo di tornare sui propri passi. Spero che le parole del Vice Premier Salvini rimangano semplicemente delle minacce perché sarebbe da irresponsabile dover uscire dalla storia. Questa è la storia. Dal momento che l'Italia, che è un Paese frontaliero, chiede di poter essere aiutato nella solidarietà attraverso la solidarietà e soprattutto la condivisione delle responsabilità. L'abbiamo chiesto per anni a tutti gli stati membri dell'Unione Europea, l'abbiamo chiesto per anni alle Nazioni Unite. E proprio nel momento in cui si firma questo Global Compact noi ci tiriamo fuori da questo. E' veramente da ipocriti cercare di andare in questa direzione. Io credo che domani la storia ci giudicherà. Non giudicherà semplicemente Salvini con il suo partito politico, ma giudicherà questo Governo. Perché il Governo è fatto di Lega Nord e è fatto anche di 5 Stelle. E quindi io dico ai componenti del Governo, se hanno il coraggio di poter scrivere una pagina che ci faccia camminare a testa alta della storia, allora dovete cambiare. venite con noi, venite a Marrakech, venite con tutti i leader che ci sono posti, che hanno deciso di sabotare questo patto. Io ci sarò, perché io ho deciso di scrivere una pagina nuova per gestire in un modo responsabile e sicuro le migrazioni. Questo patto è in qualche modo una risposta che cambia totalmente tutto. E' l'inizio. E' l'inizio di quello che abbiamo chiesto. Allora, se da una parte noi stiamo dicendo andate lì a Marrakech per firmare, stare insieme a tutti gli altri, non essere isolati, dall'altra parte diciamo anche che sono tutte bugie, slogan. Siamo in campagna elettorale, devono vendere la loro merce, ma questo patto non è vincolante e quindi non si obbliga a nessuno a poterlo applicare così com'è, ma si chiede il buonsenso e la responsabilità. Questo si chiede. Il rispetto di quello che c'è scritto dentro, ma non è assolutamente vincolante. Il Global Compact è un po' la continuazione del lavoro che ho portato qui al Parlamento europeo, che abbiamo votato a larghissima maggioranza anche come Parlamento attraverso l'approccio olistico per gestire il fenomeno migrazione. Migrazione è asilo, quindi guardare tutte le sfaccettature del fenomeno migratorio e gestirle in un modo responsabile e sicuro, ma soprattutto partendo dalle cause profonde. Io riconosco il mio lavoro qua dentro e sono fiera proprio per questo. Il Global Compact è la continuazione dell'approccio olistico.